È successo questa notte, intorno alle ore 3, c'è stata una richiesta di intervento al 113 da parte di un residente il quale ha domandato l'intervento di una volante in quanto aveva sentito delle urla di donna provenire dalla strada. Effettivamente le volanti giunte sul posto in pochissimo tempo hanno trovato sulla strada una signora di origine russa sui 40 anni che era stata appena prima accoltellata riportando delle ferite sia al polso che alla gamba sinistre. Le attività sono in corso, ci sono degli spunti che ci permetteranno di fare luce sull'episodio ma per il resto io mi riservo e preferisco mantenere una sorta di riservatezza.